Allora la Corte d'Appello di Milano, visto l'articolo 605 del Codice di Procedura Penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano dell'8 febbraio 2017, nei confronti di Crespi e Ambrogio, ridetermina la pena gli stessi infritta in anni 6 di reclusione. Con la conferma della condanna, a 6 anni in Cassazione il regista antimafia Ambrogio Crespi è entrato questa mattina in carcere. Dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per voto di scambio. Fu un momento drammatico per la giustizia italiana, loro sanno di aver condannato una persona totalmente estranea ad ogni fatto contestato fino ad oggi. Un caso senza precedenti, questo caso è destinato a fare scuola. Questo è un tema che non è il caso Crespi, è il tema caso giustizia italiano. Non c'è scritto da nessuna parte che Ambrogio ha comprato dei voti. Lei sa se Ambrogio Crespi ha procurato dei voti a Domenico Zambetti? O ci freghiamo di soldi, o ci lavoriamo seriamente, e poi vediamo. Cosa ti colpiva soprattutto? L'assenza di prove. La prova era riscontrata, come diceva Falcone. Non è prova in sé. Cioè posso testimoniare che Ambrogio non aveva la minima idea di come poteva fare qualche voto in più. La sensazione sin dall'inizio fu che fosse una sorta di pesce fuor d'acqua. Ambrogio Crespi le ha mai procurato dei voti. Forse è la prima volta che il giudizio di una corte non cambia il destino di una vita. Quel giorno... Peggio delle altre volte? Sì, peggio perché sai pure a cosa stai andando incontro. È stato un momento veramente molto buio, veramente un momento di grandissimo sconforto per me come avvocato, ma soprattutto come uomo. Io e Andrea abbiamo chiesto dove stava papà che ci ha detto che era andato in missione segreta. Perché era un agente segreto? Eh... sì. Perché non ti piacciono le videochiamate? Perché non potevo abbracciare papà. Il punto è come tu reagisci all'ingiustizia. Quella del ritrovare la fiducia che rischiava di perdere. Avevamo la fortuna che Ambrogio fosse Ambrogio. Aggrappandomi anch'io come stava facendo lui a noi, aggrappandomi alla speranza che in qualche modo il miracolo potesse accadere. Si è messo addirittura a parlare di argomenti che erano di netto contrasto di denuncia rispetto alla criminalità organizzata. Ci ha sempre restituito l'idea di una persona completamente avulso da quel tipo di sistema. Lui è rimasto sulla sua strada. E attraverso la pubblicazione, la realizzazione di tutta una serie di opere che lo hanno reso un emblema nella lotta contro la mafia. Mafia e antimafia non si possono mettere insieme. È lutta da parte dell'antimafia. La vita di Ambrogio è preziosa, è risorsa, è sostanza di giustizia. Ambrogio Crespi ha suscitato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, il parere positivo del Ministro della Giustizia e la grazia del Presidente della Repubblica. Ambrogio, ancora fiducia nella giustizia? Signora Elena? Sì.